Mappe, ponti fra storia e cultura, ma vi vorrei soffermare sul mio nome, napolitano. Vengo da Trento. Napolitano a Trento suona un po' strano. Io mi sento proprio un ponte tra due culture, perché mio padre è napoletano, mia madre è trentina. In più nel mio percorso ho sposato una cinese con cui parlo tedesco. Trento qualcuno pensa che si parli tedesco. In realtà quando voi arrivate a Trento, uscite dalla stazione e trovate questa statua, la statua di Dante Alighieri, che è stata fatta in un periodo in cui Trento non era Italia, perché la gente parlava italiano, perché si sentivano italiani. E tra questi miei concittadini c'è questo personaggio qua, Cesare Battisti, che come vedete ha fatto tante cose. Credeva molto nel fatto che Trento dovesse diventare Italia. Non voglio raccontarvi però questa storia, voglio raccontarvi una cosa che Battisti ci ha regalato. Lui era un geografo. Ha scritto un libro. Questo libro ha questa mappa. La mappa è del 1915. Trento era ancora Austria. La mappa in italiano. Quando l'ho guardato ho iniziato a incuriosirmi e volevo confrontarla con quella che è poi la Trento di adesso. Così ho giocato un po' con i dati. Io ho creato questa visualizzazione che mi mostra al passaggio come era Trento una volta. Mi permette di comparare le due storie. E allora questa mappa mi diventa un ponte tra il passato e il presente. E mi mostra delle cose a cui non ho mai pensato, non ho mai pensato che via Garibaldi, via Mazzini, personaggi del risorgimento a quel periodo proprio non potevano esserci. Quello che mi interessa adesso è spostarvi sul presente, su quella mappa che c'è sopra, perché la mappa che c'è sopra è probabilmente la mappa più aggiornata che conosco di Trento. È la mappa che viene da un progetto che si chiama OpenStreetMap. È un progetto che nasce più di dieci anni fa con l'obiettivo di creare un bene comune, raccogliere dati che descrivano mappe. Chiunque di voi può partecipare, può disegnare una strada, assegnargli un nome, dichiarare il tipo di asfalto, insegnare un negozio, il numero di piani dell'edificio. Tutto quello che viene inserito diventa una mappa. I risultati sono questi. Non voglio stare proprio davanti. I risultati sono questi. Questa è la mappa di OpenStreetMap. È quella che veramente avete visto più spesso online. Non mi interessa sapere qual è la più bella, assolutamente. Quello che mi interessa è porre l'attenzione sulla quantità di informazioni che ci sono su questa. Perché quella è generosità delle persone. Persone che hanno usato il loro tempo e il loro amore per descrivere la propria città. Se non sono persone di potenza, sono persone che sono passate qua, che in qualche modo sono rimaste colpiti e non sono venute a lasciare un segno. Quello che c'è sulla mappa è solo la punta dell'iceberg. Sotto ci sono dei dati che permettono di rappresentare quella mappa in tanti modi diversi. E allora ecco che possiamo vederla ad acquarello. Piace, non piace? Una mia amica la usa per fare la carta da pacco dei regali. Oppure possiamo anche rappresentare le tre dimensioni per i dati che ci sono. Ma non solo. Possiamo anche trasformarla per chiedergli di rimistrirci tutti i punti che ci sono a potenza. Oppure di rendere questa mappa tangibile per aumentare la dimensione e l'esperienza che una persona può avere. La facilità con cui queste mappe vengono create ha fatto sì che sia usata tantissimo negli uti umanitari. Accadde una catastrofe, abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di mappe aggiornate. Le persone partecipano, si confrontano. Questi ragazzi qua mi piacciono un sacco perché sono ragazzi del Katomandu Living Lab, un laboratorio che c'è al Katomandu, che si è preparato. Sappiamo che prima o poi ci sarebbe stato il terremoto. Loro sono fuori dal laboratorio di Katomandu dopo le scosse, per paura che arrivino altre scosse. Cosa stanno facendo? Stanno inserendo dati. Stanno aggiornando la mappa per gli aiuti umanitari. Quello che accade poi è che questo, non soltanto nei casi di catastrofe, ma anche in luoghi dove probabilmente non c'è interesse a rappresentarli, pensate a una Bidonville. Perché un'azienda dovrebbe raccogliere dati di una Bidonville? Ma le persone si vivono. E allora nasce questo concetto, rendere visibile ciò che è invisibile, una capacità che ha il più open street map. E qua voglio tornare sul ponte della cultura. In una città ci sono tante comunità. Beh, un caro amico, un CV cacker, Matteo Tempestini, dopo aver chiacchierato con lui, si parlava del fatto che a Prato c'è una forte comunità cinese e della difficoltà che hanno i cinesi nel comunicare i nomi dei posti, dei luoghi. Allora ha iniziato a raccogliere i cinesi di Prato e assieme hanno iniziato a cambiare i toponimi di Prato in cinese. In alcuni casi erano proprio delle traduzioni precise, in altri casi invece il nome di scuola lingua San Paolo, scritto in cinese, anche se non lo so, quello che è invece è la grande scuola dove andiamo a parlare italiano. Quindi ha unito questa mappa alle varie comunità fra di loro. E non è un lavoro così difficile come può sembrare. Vi riporto a Trento, un po' più là di Trento. Tra poco mi porto in un paese che si chiama Vervo, che una volta era comune, 900 metri, 730 abitanti. Un giorno mi chiamano Ezza Nicola, Vervo si trova in Val di Nonne, solo mele. Però il comune ha lavorato per creare nuovi percorsi, hanno creato dei sentieri, volevano che ci fosse anche l'aspetto turistico, volevano che le persone conoscessero Vervo, ma per commerciali arrivano, mostrano soltanto la strada, poi scrivono sopra Vervo. Si guardano intorno per una soluzione, mi chiedono tu che ne sai di Open Street, ma ci spieghi come funziona, ci mostri? Volentieri, mi invitano una sera alle 9 di sera, vado nel paese, nel bar del paese, 20 persone che mi ascoltano, il vecchio del paese, responsabile delle sezioni cacciatori, responsabile dei sentieri, varie persone, raccontiamo questo, si convincono, e Ezio e Nicola dicono ok, 1000 euro per il gruppo giovani. Il gruppo giovani di Vervo ha il compito di aggiornare la mappa di Vervo, 500 euro per le loro attività, 500 euro facciamo un concorso, il concorso è premiare chi sarà il migliore. Dopo quattro mesi mi chiamano, mi dicono, dobbiamo decidere chi è il migliore, e questi sono gli utenti di Vervo, e dico, Pier Giorgio Comai ha fatto un gran lavoro. No, Pier Giorgio non possiamo premiarlo, ma perché? No, 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 Pier Giorgio no, ma perché? Poi, non conoscendo le dinamiche e tutto, non mi sembrava corretto andare a investigare di più. Sono andato alla sera alla presentazione ufficiale di questo progetto, chiedo chi è Pier Giorgio Comai, e mi indica un signore di 86 anni. L'ex maestro della scuola, che ha scritto un libro sui toponimi della Valdinon, e tutta questa conoscenza, questa cultura, l'ha portata anche dentro OpenStreet, ma per regalarla così nuovamente al mondo. Pertanto, il mio messaggio finale è questo, che ciascuno di noi è un ponte fra storia e cultura. Cialcuno di noi può condividere la sua mappa per il bene comune. Grazie. Applausi